Abbiamo voltato pagina l'anticiclone di origine africana che ha interessato le nostre zone apportando un periodo di tempo stabile però anche le nebbie e poi le temperature anomale molto più alte della media rilevabili soprattutto sui rilievi. Vi dicevamo si è voltato pagina e questo anticiclone si è ritirato, si è annullato e ne ha approfittato un sistema perturbato che ha cambiato il sistema, tutta la pagina, il panorama meteorologico, sistema perturbato che era il primo del 2022 che ha portato piogge anche diffuse e nevicate fortunatamente sui rilievi. Ora come è ben visibile dalla carta abbiamo l'anticiclone atlantico che con decisione anche se con gradualità si sposta su di noi ci interessa e ci protegge, vedete i sistemi perturbati scorrono a nord delle Alpi. Presenza dell'anticiclone vuol dire tempo stabile e quindi tempo stabile per questo fine settimana ma probabilmente per molti ma molti giorni, anzi una notizia positiva, ecco il fatto positivo che un anticiclone è che sarà anche ventilato quindi le nebbie si formeranno ma tra diversi giorni quindi con difficoltà, quindi anche questo è un fenomeno pericoloso che non è all'orizzonte, più in dettaglio quindi per domani, per domenica cielo in prevalenza sereno, forse per domenica una velatura del cielo ma nulla, nulla più. Le temperature, ecco le temperature avremo delle gelate notturne, naturalmente i venti sono molto deboli e variabili, le temperature gelate notturne ma siamo in linea con il periodo, domani mattina avremo un picco forse di meno 3, meno 4 gradi in pianura ma poi si stabilizzeranno intorno meno 2, meno 1, meno 3 ecco temporaneamente, le massime intorno 6-7 gradi. Per quanto riguarda l'altadriatico per ora è previsto mosso, è tutto.